Abbiamo il piacere di ospitare negli studi di Cilento Channel Mattia Rundin, il 18enne cilentano che è appena rientrato da Senigallia dopo le Olimpiadi Nazionali di Fisica. Infatti Mattia si è classificato tra i primi 5 ragazzi in tutta Italia che hanno partecipato a queste Olimpiadi ed è l'unico del Sud Italia ad aver ottenuto questo ambito riconoscimento. Allora Mattia innanzitutto raccontaci perché hai voluto partecipare a queste Olimpiadi così difficili. Possiamo innanzitutto dire che comunque le Olimpiadi sono qualcosa che viene proposto regolarmente a scuola. Ho iniziato a voler studiare per le Olimpiadi di Fisica per studiare per i test di ammissione all'università perché appunto i test di ammissione in particolar modo per la scuola normale superiore di Pisa hanno sia per matematica che per fisica dei test di ammissione che ricalcano di molto il tipo di problemi che viene presentato alle Olimpiadi sia di fisica che di matematica rispettivamente. Quindi diciamo l'esigenza che mi ha spinto a cominciare è stata quella. Poi appunto quindi ottenere risultati positivi in quest'ambito diciamo in queste competizioni è un po' il riscontro che può essere d'aiuto per capire che si sta andando bene per quella strada poi per provare ad avere eventualmente successo. Quali sono state le prove che hai dovuto superare per ottenere appunto questo oro olimpico? La gara viene strutturata in più fasi. Si ha la prima fase che quella di istituto che si fa intorno a metà dicembre in ogni scuola da cui vengono scelti i primi cinque alunni di ogni scuola. Poi i cinque alunni di ogni scuola partecipano a febbraio alla seconda fase che è la gara di secondo livello che propone già dei problemi di una difficoltà più elevata e che viene proposto appunto vengono raccolti per ogni polo ad esempio io sono rientrato nel polo della provincia di Salerno e quindi ogni studente partecipa a questa seconda fase tra quelli selezionati in ogni scuola. Alla fine di questa ulteriore selezione il primo di ogni polo passa automaticamente alla gara nazionale e poi si riempie questa graduatoria fino ad arrivare a 100 studenti che partecipano poi ad aprile alla gara nazionale che è quella che appunto si è tenuta a Senigallia recentemente, in questo caso dal 10 al 13 aprile. Lì c'è una prima prova che è quella sperimentale in cui viene richiesta agli studenti di effettuare un esperimento e di rispondere ai quesiti, ricavare i dati che servono per risolvere il problema a cui segue poi il giorno e la giornata successiva e il mattino successivo una prova teorica in cui invece c'è una risoluzione effettivamente di problemi. E alla fine di queste due prove vengono selezionati i vincitori in base al punteggio complessivo che è stato totalizzato da ognuno. E a cosa ti farà accedere questa vittoria? Allora, ecco, in quanto tra i primi 5 ho acquisito il diritto di partecipare e rappresentare l'Italia in Lettonia nelle Olimpiadi Europee della Fisica in Lettonia dal 31 maggio al 4 giugno. Invece, in quanto tra i primi 10 dovrò partecipare a Trieste dal 18 al 25 maggio a una settimana di formazione che si concluderà negli ultimi due giorni con un'ulteriore prova selettiva ancora strutturata in sperimentale e teorica attraverso la quale scegliere i primi 5 ancora che effettivamente parteciperanno alla gara internazionale che si terrà quest'anno a Tel Aviv in Israele. È superfluo dire quindi a questo punto che sceglierai dopo la maturità del liceo fisica ovviamente l'università. Proprio per quello che ho cominciato, proprio per tentare di guadagnarmi l'accesso nel posto migliore possibile dove poterlo fare. Mattia, dietro ogni progetto ci sono sempre degli angeli custodi che vi accompagnano in queste esperienze bellissime. C'è qualcuno in particolare che ti senti di ringraziare? Vabbè, ecco dai, certamente da ringraziare. Credo che debba iniziare a ringraziare innanzitutto la famiglia perché comunque mi è stato dietro, possiamo dire, tra virgolette. Nel senso comunque mi ha supportato, è stato disposto a farmi fare tutti questi giri, spesso anche accompagnandomi fisicamente. Poi, vabbè, ovviamente anche c'è da ringraziare alcuni professori, in particolare la professoressa Abruzzese, forse ancora di più il professore Salvati, il mio professore di matematica e fisica, il quale è sempre disponibile ad accogliere le domande che gli pongo su questo corso di studi personale che ho intrapreso. Non era necessario, ma ad esempio ho voluto anche accompagnarmi adesso a Senigallia. L'anno scorso ho sempre andato a Senigallia, ma ero minorenne, quindi era una necessità. Quest'anno non era necessario, ho voluto comunque accompagnarmi. ringrazio per loro in particolar modo, ma comunque chiunque mi abbia supportato e chiunque abbia creduto in me si merita il mio ringraziamento realmente.